37. In una notte piovosa di aprile, Tony Fontaine giunse da Jonesboro su un cavallo coperto di schiuma e mezzo morto di esaurimento e venne a bussare alla porta di Zia Pitti, destando Rossella e Franco, il quale corse ad aprigli col cuore in gola. Per la seconda volta in quattro mesi, Rossella comprese che cos'era la ricostruzione, con tutte le sue complicazioni, e si rese conto di ciò che aveva voluto significare Will, dicendo «i nostri guai sono appena cominciati, e quanto erano giuste le dolorose parole di Ashley, quello che ci attende peggio della guerra, peggio della prigione, peggio della morte». La prima volta era stato quando aveva saputo che Jonah Wilkerson poteva, con l'aiuto degli Yankees, scacciarla dalla sua casa, ma l'arrivo di Tony la sgomentò molto di più. Tony giunse di notte, sotto una pioggia torrenziale e pochi minuti dopo era nuovamente scomparso per sempre, ma nel breve intervallo aveva sollevato il sipario su una scena di nuovo orrore, un sipario che la sentiva che non si abbasserebbe mai più. In quella notte burrascosa, quando udì il picchiotto battere alla porta disperatamente, rimase sul pianerottolo stringendosi la vestaglia al collo, e guardando nel vestibolo scorse il volto triste e spettrale di Tony prima che gli soffiasse sulla candela che Franco teneva in mano. Si affrettò a scendere nell'oscurità e gli afferrò la mano umida mentre gli sussurrava «Mi inseguono! Fugo nel Texas! Il mio cavallo è quasi morto, io muoio di fame! Ashley mi ha detto che voi non accendete la candela, non svegliate i neri, non voglio farvi avere dei fastidi, se posso evitarlo!». In cucina, dove imposte e persiane erano ben chiuse, permise che si accendesse un lume e parlò con Franco a scatti mentre Rossella cercava di racimolargli qualche cosa da mangiare. Era senza pastrano e bagnato fino all'osso, senza cappello, con i capelli neri appiccicati al cranio, inghiottino, un sorso e il whisky che ella gli aveva portato. Rossella ringraziò Dio che sua zia Pitti russasse indisturbata al piano superiore altrimenti dinanzi a quell'apparizione sarebbe svenuta. «Un maledetto, peggio di un rinegato», disse Tony tendendo il bicchiere per avere ancora da bere. «Ho fatto correre il cavallo e se non mi allontano in fretta ci rimetto la pelle, ma ne valeva la pena, sì, per Dio, cercherò di arrivare nel Texas e lì mi fermerò. Ashley è stato con me a Jonesboro e mi ha detto di venire da voi. Ho bisogno di un altro cavallo, Franco, e un po' di denaro. Il mio cavallo è quasi morto, tutta la strada fin qui ha sprombattuto e sono scappato di casa senza cappello né pastrano e senza un centesimo, non che a casa ve ne siano molti di centesimi», rise e addentò avidamente il panino di grano turco e un piatto di talli di rape su cui il grasso raffreddato aveva formato delle chiazze bianche. «Posso darvi il mio cavallo», disse Franco con calma. «In casa ho soltanto dieci dollari, ma se potete aspettare fino a domattina». «Sto fresco se aspetto», esclamò Tony enfatico ma gioviale. «Probabilmente li ho alle calcagna. Non ho un gran vantaggio. Se non ci fosse stato Ashley che mi ha trascinato e issato sul cavallo, sarei rimasto lì come un imbecille e probabilmente a quest'ora mi avrebbero già fatto la pelle. Un bravo ragazzo, Ashley». Dunque Ashley era immischiato in questa strana faccenda. Rossella sentì freddo e si portò la mano alla gola. «Ma perché Franco non domandava che cosa era successo? Perché prendeva la cosa freddamente, come se non vi fosse nulla di straordinario». «Ma» cominciò. «Che cosa? Chi?» «L'ex sorvegliante di vostro padre, quel maledetto Jonah Wilkerstone». «Lo avete... è morto?» «Dio mio, Rossella», fece Tony con stizza. «Quando comincio a tagliare a pezzi una persona, credete che mi accontenti di una graffiatura? No, per Dio, la taglio a fettine». «Bene», approvò Franco, non mi è mai piaciuto quel tipo. Rossella lo guardò. Non era il franco dolce e tranquillo che lei conosceva, quello che si tirava nervosamente la barba e che lei dominava con tanta facilità. Era freddo e sereno e fronteggiava la situazione senza parole inutili. «Ma Ashley, che cosa?» «Niente. Voleva ucciderlo, ma io gli ho detto che era a far mio, perché Sally è mia cognata e ha finito col darmi ragione. È venuto a Jonesboro con me per il caso che Wilkerson mi sopraffacesse. Ma non credo che il nostro vecchio Ash potrà avere delle noie per questo. Almeno lo spero. Non c'è un po' di marmellata per mettere su questo panino? E non potreste prepararmi un pacchetto da portare con me? Se non mi dite tutto, mi metto a urlare!» «Aspettate che io me ne sia andato, poi urlate quanto vi pare. Vi dirò tutto mentre Franco Sella ha il cavallo. Quel maledetto Wilkerson ne aveva fatte abbastanza. La storia delle vostre tasse è una delle sue infamie, ma il peggio è la maniera che aveva di incitare i neri. Se qualcuno mi avesse detto che sarebbe venuto il giorno in cui avrei detestato i neri, credono a tutto ciò che dicono quei farabutti e dimenticano ciò che abbiamo fatto noi per loro. Adesso vogliono dar loro i diritti politici e li negano a noi e se fanno questo sarà finita per noi. Perbacco lo Stato è nostro, non appartiene agli Yankees. Per Dio, Rossella, non si può tollerare e non sarà tollerata. Faremo qualunque cosa. Magari anche un'altra guerra. Fra poco avremo giudici neri, legislatori neri. Ma presto! O ditemi che avete fatto. Datemi un altro di quei panini prima di fare il pacchetto. Dunque, si era venuti a sapere che Wilkerson era andato un po' troppo oltre con la faccenda dell'uguaglianza dei neri. Ma sì, tiene a quegli idioti dei discorsi che durano delle ore e ha avuto la sfacciataggine di... Tony stentava a esprimersi. Di dire che i neri hanno diritto sulle donne bianche. No, Tony. Sì, per Dio. Mi fa impressione, eh? Eppure non dovrebbe riuscirvi nuovo, glielo hanno detto anche qui ad Atlanta. No, non lo sapevo. Si vede che Franco ha evitato di farvelo sapere. Ad ogni modo, dopo di questo, avevamo pensato che una sera avremmo chiamato in disparte il signor Wilkerson per fare i conti con lui, ma prima che potessimo far ciò, vi ricordate quel giovanotto nero e ostacchio che faceva da capoccia i nostri? Sì. Beh, si è presentato oggi alla porta della cucina mentre Sally preparava il pranzo e non so che cosa le ha detto, credo che non lo saprò mai. Ma l'ho udita a urlare e sono corso in cucina dove l'ho trovato ubriaco, fradicio. L'ho steso a terra e quando la mamma è venuta in cucina per occuparsi di Sally, sono soltato a cavallo e ho galoppato verso Jonesboro in cerca di Wilkerson. La colpa era sua. Quel nero non avrebbe mai pensato di fare una cosa simile se lui non glielo avesse detto. Passando davanti a Tara ho incontrato Ashley che naturalmente è venuto con me. Voleva che lasciassi fare a lui per vendicarsi del modo in cui Wilkerson aveva agito nella faccenda di Tara, ma io gli ho detto che spettava a me perché Sally era moglie di mio fratello morto e abbiamo discusso per tutta la strada. E' arrivata in città, figurati, Rossella, che non avevo neanche la pistola con me. L'avevo lasciata nella stalla con la furia che avevo avuto. Fece una pausa e addentò il panino. Rossella ebbe un brivido. L'ira sanguinaria dei Fontaine era ben conosciuta nella contea e quindi mi è toccato servirmi del coltello. Ho trovato quell'individuo all'osteria, lo spinto in un angolo, mentre Ashley teneva indietro gli altri e gli ho detto il fatto suo prima di boccargli la pancia. E' stato affare di un momento. La prima cosa di cui mi sono accorto è che Ashley mi ha messo sul cavallo dicendomi di venire da voi. Ashley conserva il sangue freddo in questi casi. Franco entrò portando sul braccio il suo pastrano che porse a Tony. Era il solo indumento pesante che possedesse, ma Rossella non protestò. Ma Tony, mormorò, a casa hanno bisogno di voi. Se tornaste indietro a spiegare... Franco, voi avete sposato una pazza, rise Tony mentre infilava le maniche. Crede che gli Yankees ricompensino un uomo che impedisce ai neri di toccare le sue donne? Sì, lo ricompensano, ma con un nodo scorsoio. Datemi un bacio, Rossella, può darsi che non vi veda mai più. E certo a Franco non dispiacerà. Il Texas è lontano, non oso scrivere, quindi pensate voi a informare i miei che fino a qui sono giunto sano e salvo. Ella si lasciò baciare e quindi i due uomini uscirono sotto la pioggia torrenziale e si fermarono un attimo a discorrere nel porticato posteriore. Dopo un momento udì un trepestio di zoccoli. Tony era partito. Ha perso una fessura dell'uscio e vide Franco che conduceva nella stalla un grosso cavallo zoppicante. Richiuse e sedette con le ginocchia che le tremavano. Ora comprendeva che cos'era la ricostruzione e sembrava che la casa fosse circondata da selvaggi nudi accoccolati sui calcagni. Ora le tornavano in mente tante cose a cui non aveva badato. Conversazioni che aveva sorprese ma non ascoltate, discorsi fra uomini interrotti al suo arrivo, piccoli incidenti a cui non aveva dato importanza e anche gli ammonimenti di Franco quando non voleva che l'andasse allo stabilimento protetta unicamente dal vecchio zio Pietro. Tutte queste cose si riunivano a formare un quadro terrificante. I neri erano in alto e dietro a loro erano le baionette degli Yankees. Ella poteva essere uccisa, violentata e probabilmente nessuno se ne occuperebbe e se qualcuno volesse vendicarla sarebbe impiccato dagli Yankees senza neppure la soddisfazione di un processo e di un giurì. Gli ufficiali Yankees che non conoscevano leggi non si curavano delle circostanze in cui un delitto veniva commesso. Facevano a meno di ogni procedura e non esitavano a mettere la corda al collo di un meridionale. Che possiamo fare? Pensò torcendosi le mani in un'agonia di terrore. Che possiamo fare contro questi demoni che sarebbero capaci di impiccare un simpatico ragazzo come Tony perché per proteggere le sue donne ha ucciso un furfante ubriaco e un mascalzone rinnegato. Non si può sopportare, aveva esclamato Tony e aveva ragione. Non si poteva sopportare. Intanto non vi era altro da fare. Cominciò a tremare e per la prima volta in vita sua vide le persone e gli avvenimenti come qualche cosa che era completamente staccata da lei. Vide che Rossella oara, debole e spaventata, non era la creatura più importante del mondo. Vi erano nel sud migliaia di donne come lei, spaventate e smarrite, e anche migliaia di uomini che avevano posato le armi ma ora le avevano riprese, pronti a rischiare le loro teste per difendere queste donne. Nel volto di Tony era qualche cosa che ella aveva vista rispecchiata in altri volti ad Atlanta, senza essersi soffermata ad analizzarla. Era un'espressione assai diversa dalla stanchezza che aveva visto in coloro che erano tornati dalla guerra. Questi non pensavano allora ad altro che aggiungere a casa. Ora avevano altri pensieri, i nervi rilassati, cominciavano a riprendere vigore e il vecchio spirito tornava a infiammarli. E come Tony, essi pensavano, è una cosa che non si può sopportare. Per la prima volta sentì una vera comunanza con le persone che aveva intorno. Si sentì unita ai loro timori, alla loro amarezza, alla loro determinazione. Il sud era troppo bello per poter essere abbandonato senza lotta, troppo amato per essere calpestato dagli Yankees che odiavano i meridionali, sino al punto di essere felici di trascinarli nel fango. Troppo diletto per essere lasciato in potere di neri ignoranti ebri di whisky e di libertà. Ripensando al subitanio arrivo di Tony e alla sua rapida partenza, ella si sentì affine a lui, ricordando la vecchia storia della partenza di suo padre dall'Irlanda, in fretta e furia e di notte, dopo un omicidio che per lui e per la sua famiglia non era stato delitto. Il sangue violento di Geraldo era in lei. Ricordò la sua gioia ardente nell'uccidere il ladro Yankee. Il sangue violento era in tutti loro pericolosamente a fior di pelle. Sotto la cortesia esteriore, tutti gli uomini che la conosceva, perfino il sonnolento Ashley e l'irrequieto Franco erano così, nel loro intimo, pronti a uccidere in caso di necessità. Anche Rhett, benché fosse un farabutto senza coscienza, aveva ucciso un nero perché era stato insolente verso una signora. quando Franco rientrò tossendo gocciolante di pioggia, ella balzò in piedi. «Oh, Franco, quanto durerà? Finché gli Yankees ci odieranno così? E non si può far nulla!» Franco passò la mano stanca sulla sua barba bagnata. «Stiamo facendo qualche cosa.» «Che cosa? Perché parlarne prima di averla compiuta? Può darsi che ci vogliano degli anni. Forse, forse il sud sarà sempre così.» «Oh, no! Vieni a letto, tesoro, devi essere infreddata. Tremi.» «Quando finirà?» «Quando potremo ancora votare? Quando ogni uomo che ha combattuto per il sud potrà mettere il suo voto nell'urna per un meridionale democratico? Un voto!» Ella esclamò disperata. «E che può servire quando i neri hanno perso il cervello? Quando gli Yankees li aizzano contro di noi?» Franco continuò a spiegare con pazienza, ma l'idea che i voti potessero porre rimedio a tutto quello era troppo complicata per lei. Ella pensava soltanto con soddisfazione che Jonah Wilkerson non potrebbe più minacciare Tara e di questo era grata a Tony. «Quei poveri Fontaine! È rimasto il solo Alex e a Mimosa c'è tanto da fare perché Tony non ha avuto il buon senso di farlo di notte quando nessuno poteva vederlo!» Franco le passò un braccio attorno alla vita. Di solito ella diventava nervosa quando egli la prendeva in quel modo, ma stanotte vi era negli occhi di suo marito una strana espressione e il suo braccio era fermo. «Non è cosa di poca importanza spaventare i neri e dare una lezione ai rinnegati nella persona di uno di loro. Finché vi sono dei giovanotti come Tony non avremmo bisogno di preoccuparci troppo per il sud. Se riusciamo a stare uniti a non cedere di un pollice agli Yankees, forse un giorno vinceremo». «Ma non preoccuparti tesoro, lascia che pensino gli uomini. Forse noi non vedremo più questo, ma certo un giorno verrà. Gli Yankees si stancheranno di molestarci quando vedranno che non riescono a spuntarle e allora potremo vivere e allevare i nostri figliuoli». Ella pensò a Wade e al segreto che da qualche giorno teneva chiuso in sé. «No, non desiderava che i suoi figliuoli crescessero in questo lievito di odio e di incertezza, di amarezza e di violenza, di miseria e di disperazione. Per i suoi figliuoli desiderava un mondo sicuro e ordinato in cui poter guardare all'avvenire e sapere che questo era sicuro per loro, un mondo in cui i suoi figliuoli conoscessero solo dolcezza, tepore, abiti caldi e cibi nutrienti». Franco credeva che ciò si sarebbe ottenuto coi diritti politici, ma che serviva il voto. Alle persone per bene nel sud non sarebbe mai più concesso di votare. Una sola cosa al mondo poteva essere un baluardo sicuro contro le calamità del destino, il denaro. Ella pensò febbrilmente che bisognava guadagnare molto e metterlo al sicuro e bruscamente disse a suo marito che aspettava un bambino. Prima di proseguire con la lettura di questa parte di Via Colvento, sento la necessità di prendere le distanze da quanto viene scritto da Margaret Mitchell, la quale inorridisce all'idea che un nero possa violentare una bianca senza tener conto di quante volte era successo il contrario, erano stati i bianchi a violentare le nere senza che nessuno intervenisse, non è una cosa sulla quale noi possiamo concordare. E ora proseguo con la lettura. Per parecchie settimane dopo la fuga di Tony, la casa di Zia Pitti venne ripetutamente ispezionata dai soldati Yankees. Essi invadevano i locali ad ogni ora senza alcun preavviso, passavano in ogni stanza facendo domande, aprendo ripostigli, scoperchiando ceste piene di abiti, guardando sotto i letti. Le autorità militari avevano udito che a Tony era stato consigliato di recarsi a casa di Miss Pitti, quindi erano sicure che egli fosse nascosto là o nelle vicinanze. Come risultato, Zia Pitti era perennemente sull'orlo dello svenimento, non sapendo quando la sua camera da letto sarebbe stata visitata da un ufficiale con la sua squadra. Ne Franco ne Rossella le avevano parlato della breve visita di Tony, sicché la vecchia signorina, anche se avesse voluto, non avrebbe potuto rivelare nulla. Era quindi assolutamente sincera nelle sue dichiarazioni di aver visto Tony Fontaine una sola volta in vita sua, e cioè nel Natale del 1862. E posso assicurare che era completamente ubriaco. Rossella, sofferente dei primi disturbi della gravidanza, viveva in un'alternativa di odio violento per le divise azzurre che violavano la sua intimità, magari privandola di qualche ninnolo che trovavano di loro gusto, e il terrore di essere tutti rovinati a causa di Tony. Le prigioni rigurgitavano di gente che era stata arrestata per molto meno di questo. Ella sapeva che se si fosse potuto provare contro di loro un'ombra di verità, non solo lei e Franco, ma anche l'innocente Pitti finirebbe in carcere. Da qualche tempo era assorto a Washington un movimento per confiscare tutte le proprietà dei ribelli, al fine di pagare i debiti di guerra degli Stati Uniti. E questo movimento aveva destato in Rossella la più viva apprensione. Anche ad Atlanta si vociferava della confisca delle proprietà dei trasgressori alla legge militare, e Rossella tremava all'idea che lei e Franco potessero perdere non solo la libertà, ma anche la casa, la bottega e lo stabilimento. E quando anche gli Yankees non si impadronissero della loro proprietà, questa sarebbe ugualmente perduta, perché chi si occuperebbe dei loro affari se lei e Franco andavano in prigione. Odiava Tony perché aveva portato loro tutto questo subbuglio, perché aveva fatto un'azione simile a degli amici e perché Ashley lo aveva diretto a loro. No, non aiuterebbe mai più nessuno se questo poi aveva come risultato di riempirle la casa di quella gente odiosa. Chiuderebbe la porta in faccia a chiunque, eccettuato certamente Ashley. Per molte settimane dopo la breve visita di Tony, la notte le accade di svegliarsi udendo rumori in strada, col terrore che fosse Ashley che a sua volta fuggiva verso il Texas incolpato di aver aiutato Tony. Non sapeva se gli aveva avuto delle noie perché non osavano scrivere a Tara parlando della visita notturna di Tony. Le loro lettere potevano venire intercettate, ma col passare del tempo, non avendo cattive notizie, capirono che Ashley doveva essersela cavata e finalmente gli Yankees smisero di annoiarli. Ma anche questo non liberò Rossella dallo stato di terrore cominciato quando Tony era venuto a bussare alla sua porta. Un terrore peggiore di quello delle cannonate durante l'assedio, peggiore di quello degli uomini di Sherman durante gli ultimi giorni di guerra. Era come se la comparsa di Tony in quella notte piovosa le avesse strappato una benda costringendola a vedere l'incertezza della sua vita. In quella fredda primavera del 1866, Rossella comprese che cosa era riservato a lei e agli stati del sud. Tutto il suo lavoro, i suoi sacrifici, tutto ciò che era riuscita ad iniziare con tanta fatica poteva essere strappato da un momento all'altro. E se ciò avvenisse, ella non aveva diritti legali, non poteva chiedere risarcimenti poiché non vi erano altro che i tribunali militari con i loro poteri arbitrari. Solo i neri in quei tempi avevano dei diritti. Gli Yankees avevano assoggettato il sud e intendevano man mano tenerlo in quella condizione e coloro che un tempo avevano governato erano adesso più soggetti di quanto lo fossero stati i loro schiavi. Tutta la Georgia era presidiata da truppe e Atlanta ne contava più di quante gliene aspettassero. I comandanti dell'esercito Yankees nelle varie città avevano pieni poteri e si potevano imprigionare i cittadini per qualsiasi motivo. Si impadronivano delle loro proprietà e li impiccavano, li tormentavano e li riducevano all'impotenza infliggendo loro nuove leggi sul modo di trattare i loro affari, sui salari da pagare la servitù, su ciò che bisognava dire in pubblico e in privato e su ciò che bisognava scrivere sui giornali. Disponevano come, quando e dove dovevano gettare i rifiuti, decidevano quali canzoni le figlie e le mogli degli ex confederati potevano cantare, sicché cantare Dixie o Carabandiera Azzurra era considerato poco meno che un reato di alto tradimento. Fu decretato che nessuno potesse ritirare una lettera alla posta senza aver prima presentato il giuramento di fedeltà. In alcuni casi venivano proibiti anche i matrimoni se le coppie non presentavano prima l'odiato giuramento. I giornali erano così imbavagliati che non era possibile alcuna pubblica protesta contro le ingiustizie e le rapine dei militari e le proteste individuali erano tacitate con condanne alla detenzione. Le prigioni erano affollate di cittadini eminenti che non avevano alcuna speranza di prossima liberazione. I giudizi mediante giurati e la legge degli habeas corpus erano sospesi. Le corte civili funzionavano per modo di dire secondo il piacere dei militari quali potevano intervenire con i loro verdetti e non si privavano di farlo, sicché i cittadini che avevano la disgrazia di essere arrestati erano virtualmente alla mercede l'autorità militare. E gli arrestati erano moltissimi. Bastava il sospetto di parole contro il governo, di complicità col Ku Klux Klan o che un nero si lagnasse che un bianco era stato insolente con lui per mandare in prigione. Non occorrevano prove né testimonianze. L'accusa era sufficiente e si trovavano sempre, grazie agli stimoli dell'ufficio per l'emancipazione, neri pronti ad accusare. I diritti civili ai neri non erano ancora stati accordati, ma il Nord aveva deciso che essi dovessero votare e che il loro voto fosse in favore del Nord. Gli ex schiavi erano diventati i padroni della situazione e con l'aiuto degli Yankees i più abbietti e i più ignoranti erano al di sopra di tutti. Invece i migliori, quelli che avrebbero fatto a meno della libertà, soffrivano quanto i loro padroni. Migliaia di neri domestici, la casta più alta fra gli schiavi, erano rimasti con i loro padroni bianchi e si dedicavano ai lavori manuali che in altri tempi avrebbero considerato indegni di loro. Anche molti fedeli agricoltori avevano rifiutato di servirsi della nuova libertà, ma le orde di proletari neri liberi, tra virgolette, erano reclutate in massima parte nella classe degli agricoltori. Nel periodo dello schiavismo, questi neri di casta inferiore erano disprezzati dai neri domestici, come aveva fatto Elena. Altre padrone di piantagioni del sud avevano messo i bambini neri a imparare qualche cosa per selezionare i migliori di loro e affidare loro più tardi posizioni di maggiore responsabilità. Lasciavano così nei campi quelli che erano meno volenterosi o meno capaci di apprendere, i meno energici, i meno onesti, i più viziosi e brutali. Ed ora questa classe, la più bassa dell'ordine sociale nero, rendeva la vita insopportabile negli stati del sud. Aiutati dagli avventurieri senza scrupoli che dirigevano il Friedman's Bureau e spinti da un odio quasi religioso nel suo fanatismo, gli ex lavoratori della terra si erano trovati improvvisamente elevati a posti importanti. Qui vi si comportavano come logicamente ci si poteva aspettare da loro, come bambini posti fra tesori che erano al di là della loro comprensione. A onore dei neri bisogna riconoscere che pochi agivano per cattiveria e quei pochi erano malvagi anche durante il tempo della schiavitù. Ma tutti avevano una mentalità infantile che veniva facilmente guidata ed erano sempre stati abituati a ricevere ordini. Prima erano i loro padroni bianchi che li impartivano. Ora erano padroni di nuovo genere. L'ufficio e i carpet beggars e gli ordini erano questi. Tu sei tale quale un uomo bianco, perciò agisci come lui. Appena avrai il diritto di voto avrai anche le proprietà dei bianchi, quindi è come se fossero già tue. Se puoi arrivarci fin da ora, prenditele. Abbagliati da queste parole, la libertà divenne per loro un interminabile banchetto, una festa di tutti i giorni della settimana, un carnevale di vagabondaggio, di furto, di insolenza. I neri della campagna sciamarono nella città, lasciando le regioni rurali senza lavoratori per effettuare i raccolti. Atlanta fu rigurgitante di neri che continuavano a giungere a stormi come risultato delle nuove dottrine che venivano loro insegnate. Accalcati entro squallide capanne, il tifo, la tubercolosi, il vaiolo non tardarono a scoppiare fra loro. Abituati alla sollecitudine delle loro padrone, quando erano schiavi, non sapevano che cosa fare per curarsi. Avendo sempre fatto assegnamento sui loro padroni per provvedere ai vecchi e ai bambini, ora non avevano alcun senso di responsabilità verso chi non era in grado di pensare a se stesso. E l'ufficio si interessava troppo di faccende politiche per pigliarsi quelle brighe che in altri tempi si prendevano i padroni e le padrone delle piantagioni. Bambini neri abbandonati correvano per le strade come animali spaventati finché qualche bianco di buon cuore non li raccoglieva nella sua cucina per allevarli. Vecchi contadini neri lasciati senza difesa dai loro figliuoli sbalorditi e terrorizzati, sedevano sugli orli dei marciapiedi e gridavano alle signore che passavano, per carità madama, scrivete al mio vecchio padrone della contea Fayette che io sono qui, lui viene a riprendere il suo vecchio nero, per carità, io non voglio questa libertà. L'ufficio per l'emancipazione, sopraffatto dall'enorme quantità di neri che si rivolgevano a lui, comprese troppo tardi, solo in parte, l'errore commesso e cercò di rimandare gli ex schiavi a quelli che erano stati i loro padroni. Dissero ai neri che se volevano tornare sarebbero stati dei liberi lavoratori, protetti da contratti scritti che avrebbero specificato i salari. I vecchi tornarono volentieri alle piantagioni, andando a gravare maggiormente sui piantatori impoveriti, ma i giovani rimasero ad Atlanta, non avevano nessuna voglia di andare a lavorare, a che scopo affaticarsi quando si ha la pancia piena. Per la prima volta in vita loro i neri potevano avere tutto il whisky che desideravano, alcuni non l'avevano mai assaggiato, se non quando a Natale ognuno di loro ne riceveva un bicchierino insieme alla strena. Ora dunque, agli incitamenti dell'ufficio e dei carpetbaggers si aggiungeva l'esaltazione prodotta dal whisky. Gli oltraggi erano quindi inevitabili. Né vita né proprietà erano sicure e i bianchi non protetti da alcuna legge erano atterriti. Per strada venivano insultati da neri ubriachi, la notte erano incendi di case e di granai, cavalli, polli e bestiame venivano rubati in pieno giorno. Delitti di ogni generano perpetrati e colpevoli ben di rado condotti dinanzi al giudice. Ma queste ignominie erano nulla a paragone del continuo pericolo delle donne bianche, molte delle quali, private dalla guerra di protezione maschile, vivevano sole in quartieri lontani, su strade solitarie. Era per l'appunto la conoscenza degli innumerevoli oltraggi subiti da queste donne e il terrore per la salvezza delle loro moglie e delle loro figlie che tenevano gli uomini del sud in uno stato di furore gelido e tremante e che metteva ogni notte in movimento il Ku Klux Klan. Ed era contro l'organizzazione notturna che i giornali del Nord strepitavano maggiormente, non comprendendo la tragica necessità che l'aveva fatta sorgere. Il Nord avrebbe voluto che ogni membro del Ku Klux fosse preso e impiccato perché costoro osavano punire con le loro mani i delitti quando ogni procedimento legale era stato sovvertito dagli invasori. Si assisteva allo stupefacente spettacolo di una nazione che cercava di imporre all'altra metà con la punta delle baionette il governo dei neri, parecchi dei quali non erano usciti dall'Africa che da una generazione. A costoro si voleva accordare il diritto di voto, che veniva negato a chi aveva combattuto per la Confederazione o aveva coperto cariche pubbliche. Alcuni, credendo alle parole e all'esempio del generale Lee, avrebbero anche fatto il famoso giuramento pur di ridiventare cittadini dimenticando il passato, ma ciò non era loro permesso. Altri, a cui veniva permesso, rifiutavano di giurare fedeltà a un governo che li assoggettava deliberatamente alla crudeltà e all'umiliazione. Rossella udiva ripetere fino all'esasperazione queste parole. Avrei prestato quel maledetto giuramento dopo la sconfitta se avessero agito onestamente. Posso anche essere riformato dall'Unione, ma non posso essere ricostruito da lei. In quel periodo, Rossella spasimava dal terrore. La continua minaccia dei neri senza legge e dei soldati Yankees la opprimeva. Il pericolo della confisca era presente al suo spirito anche durante il sonno, ed ella si aspettava le maggiori atrocità. Depressa dall'impotenza di tutto il sud, ricordava sempre le parole che Tony Fontaine aveva pronunciato con tanta passione. «Per Dio, Rossella, è cosa che non si può tollerare che non sarà tollerata». Grazie a tutti.